Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10. L'apertura del notiziario è dedicata all'efferato omicidio che si è consumato ieri sera poco prima dell'evento. In pieno centro storico a Gela, l'approfondimento in questo servizio. Esecuzione in stile mafioso ieri sera nel centralissimo Corso Vittorio Emanuele a Gela. Come negli anni di piombo, quando si sparava a qualsiasi ora del giorno in ogni zona dinanzi agli sguardi attoniti della gente. Così è successo ieri sera poco prima dell'evento. Freddato con cinque colpi di pistola calibro 7,65 Domenico Sequino, 56 anni, tassista. La vittima, raggiunta dai proiettili in diverse parti del corpo, è deceduta durante il trasporto in ospedale. Sono stati sei colpi sparati, così come certificato dagli uomini della scientifica dei carabinieri del reparto territoriale. Uno è andato a vuoto. La modalità dell'agguato, come dicevamo, non lascia alcun dubbio. Chi ha agito non doveva lanciare un avvertimento, doveva uccidere. E così è stato. Secondo le testimonianze raccolte dai militari dell'arma, diretti dal maggiore Valerio Marra, sarebbero stati in due a portare a termine l'efferato omicidio. Entrambi col volto travisato da caschi integrali e in sella ad un motorino. Uno guidava e l'altro sparava. Domenico Sequino stava chiacchierando con alcuni amici dinanzi al sagrato della chiesa madre, a pochi passi da un presepe itinerante, quando è stato colpito mortalmente. La corsa in ospedale si è rivelata inutile. C'è stato il fuggi-fuggi generale di chi in quel momento si trovava nella zona teatro del gravissimo episodio di sangue. C'era chi passeggiava, c'era chi faceva acquisti di Natale. Un omicidio avvenuto in pieno centro che, come sottolineavamo, ci riporta indietro di tanti anni fa, quando chi impugnava un'arma non aveva scrupoli a sparare dinanzi a decine di persone, alcune delle quali furono anche uccise, vittime innocenti di una guerra tra clan che ha insanguinato le strade cittadine. I carabinieri di Gela stanno lavorando alla cremente per dare un volto ed un nome agli assassini di ieri sera. Si cerca di capire il movente, si indaga nel passato della vittima sulle sue frequentazioni. Domenico Sequino era rimasto coinvolto anni addietro in due operazioni antimafia. Nel 2006 fu indagato dalla DIA di Roma nell'ambito del blitz Cobra. Fu assolto. Nel dicembre dello stesso anno il suo nome figurò nella maxi operazione Tagli Pregiati. In quell'occasione patteggiò la condanna per il reato associativo. La vittima lascia la moglie e tre figli. Voleva raggiungere a tutti i costi la sua fidanzata ricoverata in ospedale. Per riuscirci però ha eluso l'obbligo di permanere in una comunità dove sta scontando una pena per rapina commessa. Lo scorso anno i carabinieri della sezione radiomobile lo hanno fermato in un bar della stazione mentre faceva colazione. In manette ieri è finito Maurizio Smorta, 19 anni, pregiudicato, disoccupato gelese. Durante il servizio dedicato al controllo dei soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, i carabinieri hanno notato intento a fare colazione in un bar presso la stazione degli autobus con il padre, essendo fuori dalla comunità presso cui deve espiare la sua pena che è stata inflitta per la rapina. Aggravata, perpetrata lo scorso anno, è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari nell'attesa della celebrazione del giudizio per direttissima. I militari Smorta ha detto che a seguito del rigetto dell'istanza avanzata alla sezione minorile della corte d'appello di Caltanissetta, con la quale chiedeva di ricarsi a trovare la propria fidanzata attualmente ricoverata, si era allontanato facendo perdere le proprie tracce agli assistenti della comunità per poterla raggiungere e starle vicino. La vertenza gela con tutte le sue complicazioni e ancora al vaglio degli organi competenti. Ieri vertice a Palermo, sentiamo. La vertenza gela proda ancora sui tavoli palermitani. Occorrono misure urgenti e straordinarie per arginare l'emergenza di questa vicenda più volte definita un dramma senza fine. Ieri all'incontro nel capoluogo siciliano per il comune di Gela era presente il primo cittadino, Domenico Messinese. Questo è un tavolo che segue il tavolo che è stato fatto qualche giorno fa in prefettura, dove si è analizzato le peculiarità delle varie difficoltà che hanno le aziende, sia quelle di lì che ancora operano, sia chi è che ha licenziato i propri dipendenti e chi invece è fallita già da diverso tempo. Sono problematiche diverse. Le soluzioni nell'immediato sono quelle di dare quel reddito a queste persone per poter avere un minimo di tranquillità. Nel frattempo che noi eravamo in quel tavolo tecnico, la politica siciliana era a Roma, nella figura del vicepresidente all'assessore Lobello, a Roma proprio al Ministero dello Sviluppo Economico, per portare il problema Gela a chi è che può prendere decisioni e chi può fare le leggi per risolverlo. Ci sono novità, Sindaco? Le novità è che tutti siamo concordi, dall'amministrazione, ai sindacati, alle figure istituzionali presenti al tavolo, che la vertenza di Gela si può risolvere solo con un interessamento da parte dello Stato centrale. Ci sarà? Già abbiamo detto che oggi era in atto un primo confronto. Noi come amministrazione è da tempo che portiamo il problema Gela ai tavoli romani, dove si può decidere. Ora insieme all'amministrazione si sono unite le forze sociali e la politica siciliana. Quindi con una voce più forte forse il Governo centrale riuscirà a sentire i problemi di Gela, riuscirà a sentire il dolore delle persone di Gela. Non le manda a dire il dirigente scolastico della Scuola San Francesco di Gela, Giovanna Palazzolo, a proposito delle insistenti richieste di chiarimento su un presunto trasferimento della stessa scuola. L'abbiamo sentita. Sgombra il campo da ogni equivoco e disinformazione il dirigente scolastico Giovanna Palazzolo che oggi interviene a proposito delle insistenti richieste di chiarimenti da parte dei genitori degli alunni su presunti trasferimenti che non ci saranno, come spiega la stessa dirigente. Allora, corre voce ed è una voce molto insistente che mi sta dando molto fastidio che addirittura da gennaio, quindi da dopo le feste, qualcuno sostiene che la San Francesco, quindi la sede centrale, quella di Piazza Salandra, dovrebbe essere chiusa. E quindi allarmano i genitori che hanno intenzione di scrivere i bambini proprio in quella zona. La cosa è molto molto grave, io sono molto arrabbiata e ho intenzione che se qualcuno si fa avanti e mi dice chi sia stato, io lo denunzio sicuramente, perché non si mettono in giro voci false, tendenziose e con eventuali secondi fine. Voglio spiegare una cosa, la San Francesco intanto non chiude, tutto al più fra una ventina d'anni, quando finiranno i lavori del Pirandello, e allora io sarò sicuramente in pensione, forse ci trasferiremo alla Pirandello, ma non mai chiuderemo e nemmeno ci trasferiremo qui alla Giudici dove non c'è posto. Il chiarimento, credo, in merito alla situazione della San Francesco è d'obbligo, considerato che mi è stato chiesto da molti, specialmente da genitori, appunto mi è stato chiesto se la scuola chiudeva, anzi qualcuno mi diceva di avere la certezza che la scuola debba chiudere. In realtà così non è, siamo una scuola in crescita, proprio la San Francesco è da qualche anno un esituto comprensivo, quindi vediamo di anno in anno crescere la popolazione degli alunni, specialmente per quello che riguarda la fascia dei piccoli, scuola dell'invanza e primaria, per cui è chiaro che la San Francesco è in crescita, non chiude. L'Università di Berlino progetta la Gela Smart City del domani, innovazione nel rispetto del territorio. Ne abbiamo parlato con il Vice Sindaco Simone Siciliano. Assessore, da tempo è stato avviato un progetto con l'Università di Berlino che coinvolge direttamente la città di Gela. L'Università Tecnica di Berlino attraverso gli studenti delle varie facoltà stanno studiando il territorio di Gela nell'ottica di individuare dei progetti esecutivi. Si trattano di progetti che hanno a che fare con la reindustrializzazione, con il settore agricolo, con il problema delle bonifiche, con il problema dell'urbanizzazione, della viabilità, quindi tutti i temi che interessano questa città. Temi che tra l'altro fanno parte della logica dell'amministrazione per lo sviluppo delle smart city, però è chiaro che il passo principale deve essere quello di avere la consapevolezza di percorrere un processo di cambiamento così disruptive, si dice in termini tecnici, cioè distruttivo, nel senso di radicale cambiamento della città. Ci saranno degli incontri volti a valutare i risultati di questi studi, di questi progetti, nel medio termine e per finire poi il lavoro entro febbraio con dei progetti esecutivi che verranno portati dalla città in tutte le sue sfaccettature. Assessore, quali possono essere le ricadute positive di un progetto così innovativo in città? Cioè bisognerà anche calarlo nella realtà gelese? La peculiarità di questo progetto sta nel fatto che tutte le attività sono state svolte prevalentemente in città. Ecco, i 34 studenti universitari, i 34 tecnici sono venuti a Gela, sono rimasti qui dieci giorni dopo aver fatto gli studi preliminari per verificare con la città, quindi con dei confronti diretti con tutti gli stakeholder, cioè con tutti quelli che sono portatori di interesse nel miglioramento della città, quindi imprese, agricoltori, cittadini, le istituzioni, volte a verificare l'applicabilità di queste soluzioni. Per trovare una soluzione alternativa a quello che è stata l'industrializzazione petrolifera del territorio. Quindi la volontà è quella di cambiare il volto della città, partendo dalle attività imprenditoriali, partendo dal cambiamento del volto di queste città, per ripristinare, o meglio, per rimuovere quel debito di immagine che la città ha nei confronti dell'intera Europa. I suoi obiettivi sono davvero ambiziosi e assolutamente condivisibili, perché cambierebbero definitivamente le sorti e il destino di questa città. Ma lei, da amministratore comunque di questa città, quanto ritiene che sia possibile realizzare di tutti questi progetti così ambiziosi? Allora, sono molto, diciamo, confidente e fiducioso del fatto della loro realizzabilità, perché sono dei progetti, diciamo, esecutivi, cioè dei progetti basati sulle necessità del territorio. Ecco, non è un'estrapolazione di una realtà vissuta in un'altra città, poi calata sul territorio girese. Si tratta invece di progetti studiati sul territorio, a vantaggio del territorio, sulle necessità del territorio. Finanziati come, Assessore? Allora, i finanziamenti possono avvenire in parte tramite i famosi oneri di compensazione che l'Eni deve al territorio, ecco, per le autorità autorizzative che ci sono in Etirano, comunque che sono state espletate. A parte, verranno finanziate la comunità europea, perché comunque sono dei progetti a Valenza europea che riguardano appunto le smart cities, quindi l'efficientamento energetico. Arriveranno doni e sorrisi domani con la seconda edizione di Sorridiamo per i bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. L'evento è il risultato della collaborazione dell'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo di Gela diretto da Grazio Di Bartolo e ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo, sezione di Gela presieduta da Giacomo Giurato in collaborazione con il reparto di pediatria dell'ospedale diretto dal dottore Rosario Caci. L'essenziale non è ciò che facciamo, ma come lo facciamo ogni giorno, col cuore, la gioia, la passione, la competenza e l'entusiasmo, la condivisione, l'unione, l'allegria, la discrezione nella possibilità che sulle labbra di un bambino affiori un sorriso. Questo è il profondo messaggio della giornata. Nella mattinata saranno consegnati gadget e doni preparati proprio dai ragazzi dell'accoglienza dell'Istituto Alberghiero di Gela, coordinati dal professore Emiliano Sigona. La finalità è quella di promuovere la donazione di Midollo Osseo. A scuola manca l'acqua, protesta nei genitori degli alunni e il dirigente scolastico lancia un appello. Si tratta del plesso infanzia e primaria di Via Europa dell'Istituto Luigi Capuana di Gela. Sentiamo. Dopo le proteste dei genitori degli alunni della scuola infanzia e primaria della Capuana di Via Europa per la penuria d'acqua che ostacola il normale svolgimento delle lezioni, oggi il dirigente scolastico Concetta Mongelli lancia un appello affinché il problema possa trovare pronta risoluzione. Sì, problematica all'Istituto Ex Magistrale che sarebbe attualmente liceo psicopedagogico insieme a primaria Capuana e infanzia Capuana. È la sesta volta dall'inizio dell'anno scolastico che a noi manca l'acqua. Ora, dal punto di vista tecnico io non posso dire perché manchi l'acqua. Ovviamente ci devono pensare i tecnici del comune e della provincia con proprietari dei locali. Io dico soltanto che questo è un disagio enorme per gli utenti, bambini piccoli, benché i miei pidelli con le riserve che noi ci teniamo giorni prima con bidoni o quant'altro puliscono una volta i bagni, dopo di che li devo mandare a casa perché la carenza cienico-sanitaria è inammissibile. La primaria può stare un giorno, dopo di che l'indomani no. Poi, se siamo fortunati, mandano o calta acqua al comune una riserva d'acqua, ma serve per un lavaggio di bagni, non serve più. Quindi io chiedo davvero a chi di competenza, seriamente, che risolvano una volta per tutti questo problema o, se non lo dovessero risolvere, che immediatamente, quando arriva la PEC della nostra scuola, la bonza d'acqua arrivi immediatamente, non ci facciano aspettare uno o due giorni per una bonza d'acqua. La speranza di voltare pagina è stata una vana illusione. Lo conferma l'ennesima crisi idrica che sta attraversando in questi giorni la città, con interi quartieri a secco da almeno cinque giorni dopo la rottura dell'acquedotto Blufi. Lo scrive in una nota inviata alla stampa Lucio Greco di un'altra Gela. I cittadini mi hanno sollecitato di intervenire su questo tema, che non riesce a sortire alcun effetto concreto sulle iniziative della classe dirigente per risolvere il problema della carenza idrica. Che cosa è cambiato dopo il voto dei gelesi? Nulla, niente. Erogazione continua negli ultimi decenni, neppure negli ultimi sei mesi. Leggiamo ancora nel documento. Dove sono finite le promesse del sindaco messinese, che aveva assicurato in campagna elettorale di volere rescindere il contratto con Caltacqua? Che fine hanno fatto le illusioni di rivedere i termini del contratto con la società di gestione per l'erogazione continua dell'acqua, che invece, come sempre, viene distribuita per poche ore, ogni due giorni, e per di più nelle fasce orarie notturne? E ancora, che cosa è cambiato nella qualità dell'acqua erogata? E nelle bollette che prevedono il pagamento di un'erogazione di 24 ore su 24 di acqua potabile? Sindaco messinese scrive, infine, Lucio Greco, Un'altra Gela, che io rappresento, ti ha appoggiato in seconda battuta per realizzare il sogno di creare un'altra Gela, e invece trova la stessa Gela, quella senza acqua e senza futuro. Oggi, guardando con occhio critico ad un cambiamento di rotta, ti ricorda gli impegni elettorali da mantenere per non incorrere ad un atto di sfiducia della città, che sul tema acqua e lavoro non transige, e lo ha dimostrato con il voto di giugno. Sarà inaugurata domani alle 18 nei locali del Palazzo di Città la seconda mostra di presepi realizzata dalle scuole locali promossa dall'Associazione Turistica Proloco Gela. L'iniziativa, il cui ingresso sarà completamente gratuito, manifesta il percorso di educazione alla cittadinanza attiva che sta alla base del progetto turistico della Proloco. I presepi, come simbolo di rinascita, verità e giustizia, frutto del lavoro dei ragazzi delle scuole e dell'artigianato artistico della raffinata combinazione tra abilità manuale e creatività. La mostra, dopo l'inaugurazione di domani delle 18, rimarrà aperta al pubblico fino al 6 gennaio, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20 e 30. Durante l'inaugurazione di domani, previsti un intrattenimento musicale con la cantante Anna Salsetta, degustazioni, dolci e salate. Stasera tornerà a Gorà in diretta su Canale 10. La trasmissione di approfondimento giornalistico ideata e condotta da Franco Gallo proporrà nella sua ultima puntata del 2015 una sorta di bilancio dell'anno solare che ci sta per lasciare. Un bilancio che purtroppo non si preannuncia per niente soddisfacente per la città di Gela, anzi, tutt'altro. In studio con il conduttore Franco Gallo, ospiti nel salotto televisivo di Gorà, tra cui il sindaco Domenico Messinese, che tracceranno il consuntivo di un anno che molti, senza andare purtroppo lontano dalla realtà, stanno definendo ribilis per la nostra città. Appuntamento dunque a questa sera alle ore 21 con l'ultima puntata del 2015 di Gorà. Ci fermiamo, c'è la pubblicità tra poco. Restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale che apriamo subito con la nostra rubrica in breve. Saranno aperte altre due porte sante nella diocesi di Piazza Armerina in occasione del Giubileo della Divina Misericordia. Lo ha annunciato il Vescovo Monsignor Rosario Gisana a Gela il 6 gennaio, presso la Piccola Casa della Misericordia e a Enna, presso il Centro d'Accoglienza Santa Lucia. Inoltre si potranno ottenere le indulgenze giubilari anche in occasione dell'apertura in ogni vicariato della Porta della Carità, nelle cappelle delle carceri e degli ospedali presenti in diocesi e nei luoghi dove si terranno le catechesi sulle opere di misericordia corporali e spirituali. Seconda mostra di presepi. Presepi in comune realizzata dalle scuole locali promossa dall'Associazione Turistica Proloco Gela. Si terrà dal prossimo 19 dicembre al 6 gennaio a Palazzo di Città. Previsti intrattenimento e degustazioni. L'ingresso è libero dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.30. L'inaugurazione è prevista per sabato, 19 dicembre, alle ore 18.00. Continuano gli appuntamenti col grande jazz al Teatro Comunale Eschilo di Gela, venerdì 8 gennaio Francesco Buzzurro e venerdì 29 gennaio Fabio Concato. L'inizio degli eventi è previsto per le ore 21. Per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20.00. Per informazioni 093 3911 892 oppure 345 5880 580. Stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela protagonisti degli eventi saranno Sergio Vespertino e Ernesto Maria Ponte lasciate libero Lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia. Il botteghino rimarrà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30. Prossimo spettacolo il 13 gennaio con Sergio Vespertino. Si rinnova l'appuntamento annuale con il Gran Concerto di Natale Il Mondo che Vorrei su iniziativa della FARC coordinata da Angela Lobello in collaborazione con i giovani dell'Oratorio Salesiano. Si tratta di un'iniziativa culturale di socializzazione dedicata ai malati oncologici alle loro famiglie e alla cittadinanza tutta per vivere insieme la magia del Natale. L'appuntamento è fissato per il 21 dicembre alle 18 al Teatro Eschilo per un concerto all'insegna della solidarietà e della speranza. Messaggi che l'associazione è impegnata a diffondere nell'agire quotidiano a favore dei pazienti oncologici in cura all'ospedale Vittorio Emanuele e delle loro famiglie. Sarà commemorato domani il centenario della morte del tenente Giovanni Guccione caduto nella terza battaglia dell'Isonzo all'inizio della Prima Guerra Mondiale. Una messa in suo suffragio sarà celebrata alle 10 nella Chiesa San Francesco al termine e le autorità si muoveranno in corteo verso Corso Vittorio Emanuele e Piazza Martiri della Libertà dove sarà deposta una corona da loro. Siamo all'inizio questo, è un inizio, un centennaio che è all'inizio. Tanti ricordi perché ero un fratello da non dimenticare mai, anche con il suo combattimento che ha fatto, c'era la mamma viva, quindi sono state delle cose ben ricordate. I ricordi sono in tutte le parti del mondo. Ci sono ricordi che lui ha lasciato in tutte le parti del mondo. Domenica 20 dicembre in Piazza Umberto Prima Gela sarà allestito il mercatino solidale natalizio, un mercatino al quale i cittadini potranno donare giocattoli, indumenti non più utilizzati, generi alimentari, libri allo scopo di sostenere le famiglie più indigenti della città. All'iniziativa aderisce l'Associazione Culturale Disegne di Sogni di Elisa e Gianni che entra a terra grandi e piccini con il gioco dell'oca gigante direttamente da Pop-up Festival dei giochi e dei balocchi per tutti i partecipanti, gadget e premi. La raccolta di darata alimentare e abbigliamento da distribuire alle famiglie bisognose. Parteciperanno associazioni, ci saranno degli eventi di Elisa e Gianni per i bambini e questo è uno, ma poi ci sono il giorno prima, ci saranno due raduni, uno di macchina d'epoca e uno di moto, uno in piazza Sant'Agostino e l'altro in piazza San Francesco con il giro per la città. Ci saranno manifestazioni canore con coro polifonico. Nel nostro sito metteremo questi eventi perché sono veramente tanti e difficili da ricordare. I presepi sono tantissimi. Continuano le manifestazioni inserite nel cartellone natalizio promosso dal comune di Gela. Fino al 6 gennaio, nei locali di Palazzo Ducale, mostra di presepi Vita di Gesù di Francesco Bonvissuto. Fino al 10 gennaio, pattinaggio su ghiaccio, eventi, mostra di presepi, albero della vita, nel piazzale della chiesa di San Rocco a Cantina Sociale, sempre fino al 6 gennaio nel Palazzo Regina Margherita, presepi artistici. Camminata per la pace in memoria dei gelesi morti per patologie tumorali è l'iniziativa promossa dal comitato Camminatori Gelesi, appassionati di uno sport amatoriale a metà tra la polistica e la camminata, nato negli Stati Uniti nella metà degli anni 90 e arrivato anche in Italia. L'appuntamento è fissato per domenica 20 dicembre alle 9 in Piazza della Pace, a lungomare, con destinazione Parco di Montelungo. Tutti i devoti che si accingono a preparare la tradizionale cena di San Giuseppe del 19 marzo dovranno recarsi presso la chiesa di Sant'Agostino per potersi registrare, lo comunicano i padri agostiniani. C'è l'informazione cinematografica e Babbo Natale non viene da nord, il nuovo film in programmazione al Cineteatro antidoto di Macchitella, vi ricordiamo gli orari di rotazione della pellicola a 17 e 30 a 19 e 30 a 21 e 30. Lunedì 28 dicembre alle 21 la compagnia teatrale antidoto porterà in scena Nabrisco la commedia in tre atti di Tiziana Guarneri, la regia affidata a Giancarlo Bella. Termina qui il nostro telegiornale, grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione. Vi ricordiamo che notizie, servizi e approfondimenti sono reperibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato. Grazie per l'ascolto e arrivederci a domani.